Sherlock Holmes e l'avventura di Charles August Milverton, di Arthur Conan Doyle Gli eventi che mi accingo a narrare risalgono a molti anni orsono, eppure è con una certa difficoltà che ne parlo. Per molto tempo, seppur usando la massima discrezione, sarebbe stato impossibile renderli pubblici, ma oggi il loro protagonista principale è al di là della legge umana e debitamente ripulita, la vicenda può essere raccontata senza far male a nessuno. Si tratta di un'esperienza unica, sia nella carriera di Holmes che mia. Il lettore vorrà perdonarmi se ometterò date o altri fatti che potrebbero far risalire alla reale vicenda. Eravamo usciti, Holmes ed io, per una delle nostre passeggiate pomeridiane ed eravamo rientrati verso le sei di una gelida serata invernale. Quando Holmes accese la lampada, la luce cadde su un biglietto poggiato sul tavolo, gli diede una rapida occhiata e poi con un'esclamazione di disgusto lo gettò a terra. Lo raccolsi e lessi Charles August Milverton, Appeldor Towers Amstead, agente. «Chi è?» domandai. «L'uomo peggiore di Londra», rispose Holmes sedendosi estendendo le gambe verso il caminetto acceso. «C'ha scritto qualcosa sul retro? Girai il biglietto? Sarò da lei alle sei e trenta. C.A.M.» Sarà qui a momenti. Lei, Watson, non prova un vago senso di repulsione davanti ai serpenti dello zoo nel vedere quelle viscide creature striscianti e velenose con quegli occhietti letali e quelle teste schiacciate? Beh, questa è la medesima impressione che mi fa Milverton. Nel corso della mia carriera ho avuto a che fare con una cinquantina di assassini, ma nemmeno il peggiore di loro mi ha mai dato questo senso di repulsione che sto provando ora per quest'individuo. Eppure non posso rifiutarmi di lavorare per lui. Anzi, è qui proprio dietro mio invito. «Ma chi è?» Glielo dirò a Watson. È il re dei ricattatori. Dio abbia pietà dell'uomo e ancor più della donna, i cui segreti e la cui reputazione cadono nelle mani di Milverton. Col sorriso sulle labbra e un cuore di pietra gli spremerà fino all'ultima goccia. A modo suo è un genio e se avesse scelto una professione meno disgustosa sarebbe arrivato in alto. Ora le spiegherò come agisce. Fa sapere di essere disposto a pagare ingenti cifre per lettere che siano compromettenti per persone ricche e potenti. Le riceve non solo da camerieri infedeli, ma anche spesso da farabutti che si sono conquistati la fiducia e l'affetto di donne credule. Paga bene. Per caso ho saputo che ha pagato 700 sterline ad un uomo per un biglietto di sole due righe. E il risultato è stata la rovina di una nobile famiglia. Tutto ciò di cui il mercato in questo campo dispone va a finire a Milverton e in questa città centinaia di persone impallidiscono soltanto a sentire il suo nome. Nessuno sa dove o quando può colpire perché è troppo ricco e troppo astuto per sbucciare subito la patata bollente. È capace di conservare un biglietto per anni così da servirsene al momento giusto quando la posta ne vale veramente la pena. Ho detto che è l'uomo peggiore di Londra e vorrei chiederle come si potrebbe mai paragonare un mascalzone che in un momento d'ira fracassa la testa al compare con quest'individuo che metodicamente e senza fretta tortura l'anima e sconvolge i nervi per rimpinguare la sua già rigonfia borsa. Raramente avevo sentito il mio amico esprimersi con tanta veemenza. Ma senza dubbio, dissi, la legge potrebbe intervenire. In teoria certamente, ma non in pratica. Cosa ci guadagnerebbe per esempio una donna nel farlo finire in carcere per qualche mese se questo comporterebbe la sua immediata rovina? Le vittime non osano ribellarsi. Certo, se ricatasse un innocente allora lo avremmo in pugno, ma è scaltro come il demonio. No, dobbiamo cercare altri modi per combatterlo. E perché sta venendo qui? Perché un illustre cliente mi ha fidato il suo caso pietoso. Si tratta di Lady Eva Blackwell, la più graziosa debuttante dell'ultima stagione. Fra due settimane dovrebbe sposare il conte di Davencourt. Questa canaglia è in possesso di varie lettere imprudenti. Imprudenti, Watson, nulla di più, scritta ad un giovane signorotto squattrinato. Sarebbero sufficienti a mandare all'aria il matrimonio e Milverton invierà le lettere al conte se non gli verrà versata la somma di denaro da lui richiesta. Sono stato incaricato di incontrarmi con lui e di raggiungere l'accordo migliore possibile. In quell'istante per strada si sentì un rumore di ruote. Guardando fuori vidi un'elegante carrozza con una splendida pariglia di sauri le cui groppe lucide e sedose erano illuminate dai fanali. Un lachè aprì lo sportello e ne discese un ometto tarchiato, avvolto da un cappotto di astracan. Un minuto dopo era nella nostra stanza. Charles August Milverton aveva una cinquantina d'anni, la fronte ampia e intelligente, il viso tondo, grassoccio, sbarbato, un perpetuo sorriso congelato sulle labbra e due acuti occhi grigi che scintillavano dietro grosse lenti cerchiate d'oro. C'era benevolenza alla Pickwick nel suo aspetto, smentita però da quel sorriso stereotipato e insincero e dal bagliore d'acciaio di quegli occhi irrequieti e penetranti. Holmes ignorò la mano tesa guardandolo con una faccia di pietra. Il sorriso di Milverton si fece ancora più ampio, alzò le spalle, si tolse il cappotto piegandolo con molta cura e lo poggiò sulla spagliera di una seggiola prima di sedersi. Questo signore, chiese con un cenno verso di me, è discreto? A posto? Il dottor Watson è un mio amico e socio. Benissimo, signor Holmes. Mi preoccupavo solo dell'interesse della sua cliente. Sa, la faccenda è talmente delicata. Il dottor Watson ne è già al corrente. Allora possiamo parlare degli affari. Lei dice di agire per conto di Lady Eva. L'ha autorizzata ad accettare le mie condizioni? E quali sarebbero le sue condizioni? Settemila sterline. Altrimenti? Mio caro signore, mi era trista il doverne discutere, ma se il denaro non sarà pagato il giorno 14, sono certo che non ci sarà alcun matrimonio il giorno 18. Quel suo indisponente sorriso era più compiaciuto che mai. Holmes riflette per un attimo e poi disse, mi sembra che lei dia le cose troppo per scontate. Sono naturalmente informato del contenuto di quelle lettere. La mia cliente seguirà sicuramente il mio consiglio, che sarà quello di raccontare tutto al futuro sposo sperando nella sua generosità. Milverton ridacchiò. Evidentemente lei non conosce il conte, disse. Dall'espressione sconcertata di Holmes compresi che le cose stavano effettivamente così. Cosa ci sarebbe di male in quelle lettere? Chiese. Sono vivaci, molto vivaci, rispose Milverton. La signorina era una corrispondente affascinante, ma le assicuro che il conte di Davencourt non le apprezzerebbe affatto. Comunque, dato che lei è di diverso avviso, lasciamo perdere. È una pura e semplice questione d'affari. Se lei ritiene che sia nel migliore interesse della sua cliente, che queste lettere finiscano nelle mani del conte, beh, certamente sarebbe molto sciocco per voi pagare una tale cifra per rientrarne in possesso. Si alzò e prese il cappotto di Astrakhan. Holmes era impallidito per lire la mortificazione. Aspetti un momento, disse. Non abbia tanta fretta. Naturalmente, faremo di tutto per evitare uno scandalo in una questione così delicata. Milverton tornò a sedersi. Ero certo che l'avrebbe vista in questa maniera, disse in tono sorgnone. Lady Eva, però, proseguì Holmes, non è ricca. Le assicuro che già duemila sterline prosciugherebbero quasi per intero le sue risorse e non dispone assolutamente della somma che lei sta richiedendo. La prego, quindi, di moderare le sue richieste e di restituire le lettere al prezzo che le ho indicato, e che le assicuro è il massimo che potrà ottenere. Il sorriso di Milverton si fece ancora più largo, mentre gli occhi gli scintillavano di ironia. Sa perfettamente che quanto lei dice sulla disponibilità della signora è esatto. Al tempo stesso, però, non si può negare che l'occasione del matrimonio è l'ideale perché amici e parenti facciano qualche sacrificio in suo nome. Potrebbero essere incerti su cosa regalarle per le nozze. Lasci che li informi che questo mucchietto di lettere sarebbe assai più ben accetto che tutti i candelabri e i piattini per il burro di Londra. Impossibile, disse Holmes. Che peccato, davvero un peccato, esclamò Milverton tirando fuori un grosso portafoglio. Non posso far a meno di pensare che le signore siano davvero sconsiderate a rifiutarsi di compiere un piccolo sforzo. Guardi qui. Tirò fuori un bigliettino con uno stemma sulla busta. Questo appartiene a… forse non sarebbe onesto da parte mia rivelarne il nome prima di domani mattina. Ma domani mattina sarà nelle mani del marito della signora in questione, e tutto perché non ha riuscito a trovare una misera somma che avrebbe potuto facilmente ottenere sostituendo i suoi gioielli autentici con delle imitazioni. Un vero peccato, no? Mi dica, rammenta l'improvvisa rottura del fidanzamento tra la signorina Miles e il colonnello Durking? Solo due giorni prima delle nozze è apparso un trafiletto nel morning post con cui veniva disdetta la cerimonia. E sa perché? È quasi incredibile, ma sarebbero state sufficienti 1200 sterline per risolvere tutto. Non è un peccato? E lei, un uomo di buonsenso, se ne sta qui a cavillare sulle condizioni, quando in ballo ci sono il futuro e l'onore della sua cliente? Mi meraviglio di lei, signor Holmes. Le ho detto la verità, rispose Holmes. È impossibile trovare tutto quel denaro. Non sarebbe meglio per lei accettare la rispettabile cifra che le ho offerto, anziché rovinare l'avvenire di questa donna senza cavarne alcun profitto. È qui che si sbaglia, signor Holmes. Uno scandalo mi sarebbe, sia pur indirettamente, molto utile. Ho altri nove o dieci casi del genere. Se si spargesse la voce che ho voluto dare un esempio con Lady Eva, tutti gli altri sarebbero molto più disponibili a collaborare. Afferra il concetto? Holmes si alzò di scatto dalla seggiola. Gli vada alle spalle, Watson. Gli impedisca ad uscire. E adesso, egregio signore, vediamo un po' cosa contiene quel suo portafoglio. Milverton, rapido come un sorcio, era scivolato in un angolo della stanza, mettendosi con le spalle al muro. Attento, signor Holmes, disse aprendosi la giacca per mostrare il calcio di una grossa pistola nella tasca interna. Mi aspettavo qualche mossa avventata da parte sua. È successo molto spesso e non è mai venuto niente di buono. Le garantisco che sono armato fine denti e sono pronto ad utilizzare le mie armi, sapendo che la legge sarebbe dalla mia parte. Inoltre, la sua supposizione che io sarei venuto qui portando le lettere nel mio portafoglio è totalmente sbagliata. Non farei mai una cosa così stupida. E adesso, signori, devo ancora incontrare un paio di persone per questa sera. E il tragitto da qui ad Amstead è molto lungo. Fece un passo avanti, prese il cappotto, posò la mano sul calcio della pistola e si avviò verso la porta. Affarai una sedia, ma Holmes scosse la testa e la rimisi a terra. Con un inchino, un sorriso e una strizzatina d'occhio, Milverton uscì dalla stanza e pochi istanti dopo sentimmo sbattere lo sportello della carrozza e le ruote circolarono, rimettendosi in moto. Holmes sedeva immobile accanto al fuoco, con le mani sprofondate in tasca, il mento sul petto, gli occhi fissi sui tizioni ardenti. Rimase così, fermo in silenzio per circa una mezz'ora. Poi, col gesto di un uomo che ha preso una decisione, si alzò di scatto e andò in camera sua. Dopo pochi istanti, un disinvolto giovane operaio con la barbetta punta e la camminata ciondolante accese la sua pipa di gesso sotto la fiamma della lampada prima di scendere per strada. «Prima o poi sarò di ritorno, Watson», disse, e quindi svanì nella notte. Capì che aveva aperto le ostilità contro Charles August Milverton, ma non potevo certo immaginare quale strana forma era destinata ad assumere la sua campagna. Per qualche giorno Holmes continuò ad andare e venire a tutte le ore con quel suo strano travestimento, ma tranne che per qualche accenno al fatto che trascorreva il tempo ad Amstead e che non era tempo sprecato, ero totalmente all'oscuro dei suoi movimenti. Finalmente, in una sera cupa e tempestosa, col vento che ululava le finestre scrollando i vetri, rientrò dalla sua ultima spedizione e, una volta toltosi il travestimento, si sedette davanti al fuoco ridendo di cuore con quella sua resata silenziosa e introversa. «Lei mi definirebbe un tipo adatto al matrimonio, Watson?» «Certamente no. Le interesserà sapere allora che mi sono fidanzato?» «Congratulazioni, amico!» Con la cameriera di Milverton. «Santo cielo, Holmes!» «Avevo bisogno di informazioni, Watson. Ma non le sembra eccessivo?» «Era indispensabile. Sono un idraulico con un'attività ben avviata e mi chiamo Escott. Ho passeggiato con lei ogni sera e abbiamo chiacchierato. Dio mio, che discorsi!» «Comunque, ho ottenuto tutto ciò che volevo. Conosco la casa di Milverton come il palmo della mia stessa mano.» «Ma Holmes è la ragazza?» Holmes si strinse tra le spalle. «Non so che farci, Watson. Quando in tavola c'è una posta del genere, bisogna giocare le proprie carte meglio che si può. Tuttavia, sono lieto di poter dire che ho un odiato rivale che, senza alcun dubbio, mi soffierà la ragazza appena volterò le spalle.» «Che splendida serata, non trova?» «Con questo tempo?» «Adatto al mio scopo, Watson. Questa notte intendo scassinare la casa di Milverton.» Mi si mozzò il fiato e cominciai a sudare freddo, una volta sentite quelle parole, enunciate con un tono così deciso. Come un lampo nella notte rende subitamente visibile ogni dettaglio di un panorama selvaggio, così mi parvi di vedere, a colpo d'occhio, tutti i possibili risultati di un'impresa del genere. La scoperta inflagrante, l'arresto, l'irreperabile fine ignominiosa di un'onorata carriera. Lo stesso mio amico ha la merced di quel detestabile di Milverton. «Per amor di Dio, Holmes, pensi a quello che sta facendo!» gridai. «Mio caro amico, ci ho pensato fin troppo a lungo. Non agisco mai in maniera precipitosa, lei lo sa, e non ricorrerei neanche un sistema così drastico, anzi per meglio dire così pericoloso, se ci fosse un'alternativa. Ma esaminiamo spassionatamente la cosa. Immagino che converrà con me che è un'azione moralmente giustificabile, anche se tecnicamente criminosa. Svaliggiare la sua casa equivale a sottrargli con la forza quel suo portafoglio, un'azione in cui lei era pronto ad aiutarmi». Ci pensai sopra qualche secondo, poi risposi «sì, è moralmente giustificabile fino a quando il nostro fine è esclusivamente quello di impadronirsi di qualcosa che viene usato per scopi illegali». «Esattamente. Quindi, dato che è moralmente giustificabile, devo soltanto considerare il problema del rischio personale. Ma un gentiluomo non dovrebbe preoccuparsene eccessivamente quando una signora ha disperatamente bisogno del suo aiuto, non trova?» «Ma verrà a trovarsi in una posizione così falsa?» «Fa parte del rischio, amico mio. Non esiste altro modo per recuperare quelle lettere. Quella povera ragazza non ha il denaro e non ha nessuno con cui confidarsi. Domani è l'ultimo giorno di tregua e, a meno di recuperare le lettere questa notte stessa, quel farabutto manterrà la sua minaccia e le distruggerà la vita. Quindi, o abbandono la mia cliente al suo destino o gioco quest'ultima carta?» Detto fra noi, Watson, è praticamente una sfida fra me e Milverton. «Come ha visto, le prime schermaglie sono state a suo favore, ma ci sono in ballo la mia autostima e la mia reputazione, e quindi combatterò fino alla fine». «Beh, non mi piace affatto, ma suppongo che non ci sia altro da fare», risposi. «Quindi, quando andiamo?» «Lei non viene, Watson». «Allora non ci va nemmeno lei», dissi. «Le do la mia parola d'onore, alla quale non ho mai mancato in vita mia, che se non mi fa venire con lei allora andrò di filato a denunciarla alla stazione di polizia». «Non può essermi di nessun aiuto». «E come fa a saperlo? Non può dire che cosa potrebbe accadere. Comunque la decisione è presa. Non è solo lei ad avere autostima e reputazione». Holmes era sembrato seccato, ma a questo punto la fronte gli si spianò e mi batte una mano sulla spalla. «D'accordo, d'accordo, vecchio mio, così sia. Dividiamo questa stanza da anni ormai. Sarebbe divertente finire col dividere anche la stessa cella». «Sa, Watson, non mi vergogno di confessarle che ho sempre pensato che avrei potuto essere un efficientissimo criminale. E questa è l'occasione buona per dimostrarlo. Dìa un'occhiata». Tiro fuori da un cassetto un piccolo astuccio di cuoio, lo aprì e mi mostrò una serie di ferri scintillanti. «Questa è un'attrezzatura completa per scassinatori, aggiornata e di ottima qualità. Crimaldello placato in nickel, tagliavetro con la punta di diamante, chiavi universali e ogni raffinatezza che il cammino della civilizzazione ne richiede. Ecco, ho anche una lanterna cieca. Tutto a posto. Lei ha un paio di scarpe che non fanno rumore? Le scarpe da tennis con la suola di gomma. Eccellente. E una maschera? Posso ricavarne un paio da un pezzo di seta nero? Vedo che è una forte tendenza congenita per questo tipo di cose, Watson. Benissimo, prepari le maschere. Faremo una cena fredda prima di metterci in cammino. Adesso sono le nove e mezza. Alle undici raggiungeremo in carrozza a Church Row. Da lì, in un quarto d'ora dovremmo arrivare ad Appledore Towers. Ci metteremo all'opera prima di mezzanotte. Milverton ha il sonno pesante e si corica puntualmente alle dieci e mezza. Con un po' di fortuna potremo essere di ritorno per le due, ovviamente con le lettere di Lady Eva in tasca. Holmes ed io indossammo gli abiti da sera, così da parire come due signori di ritorno dal teatro. Ad Oxford Street prendemmo una carrozza di piazza, facendoci condurre ad un indirizzo di Amstead. Una volta giunti, pagammo il vetturino e con i soprabiti abbottonati contro il freddo pungente e il vento che sembrava infiltrarsi dappertutto, procedemmo a piedi lungo il margine della brughiera. «È una faccenda che va trattata con cautela», disse Holmes. I documenti si trovano in una cassaforte nello studio dell'individuo e lo studio costituisce l'anticamera della sua stanza da letto. D'altro canto, come tutti gli ometti tarchiati che si trattano bene, dorme come un sasso. Agatha, ovvero la mia fidanzata, dice che tutti i domestici scarzano sul fatto che svegliare il padrone è un'impresa pressoché impossibile. Ha un segretario molto devoto che non si muove dallo studio per tutto il giorno ed è per questo che noi ci andiamo di notte. Ecco, questa è la casa, questa qui grande circondata dal parco. Passiamo il cancello. Bene, adesso a destra, fra i cespugli di Lauro. A questo punto credo che possiamo indossare le maschere. Vede, non c'è un barlume di luce alle finestre e tutto procede a meraviglia. Con le nostre maschere di seta che ci trasformavano in due delle più truculente figure londinesi, ci accostammo cautamente alla casa, tetra e silenziosa. Lungo uno dei due lati scorreva una specie di veranda a coperta, sulla quale si aprivano varie finestre e due porte. «Questa è la sua camera da letto», bisbigliò Holmes. «Questa porta dà direttamente nello studio. Sarebbe la strada migliore, ma è chiusa a chiave e sprangata, e faremmo troppo rumore nell'entrare. Venga da questa parte, c'è una serra che dà nel soggiorno». La vetrata era chiusa a chiave, ma Holmes tagliò un cerchio di vetro e girò la chiave dall'interno. Un secondo dopo aveva chiuso la porta alle nostre spalle e, agli occhi della legge, eravamo diventati due delinquenti. L'aria calda e pesante della serra e la fragranza intensa e soffocante delle piante esotiche ci strinse alla gola. Nell'oscurità mi prese per mano conducendomi rapidamente lungo file di cespugli che ci sfioravano la faccia. Holmes aveva la strana facoltà, accuratamente coltivata, di vedere al buio. Sempre tenendomi per mano, aprì una porta e mi resi vagamente conto che eravamo entrati in una grande stanza dove ancora ristagnava l'odore di un sigaro fumato di recente. Si fece strada fra i mobili, aprì un'altra porta e la richiuse dietro di noi. Tendendo la mano sentì i vari soprabiti che pendevano dalle pareti e quindi capì che eravamo in un corridoio. Lo percorremmo e Holmes molto cautamente aprì una porta sulla destra. Qualcosa ne sbuccò fuori di corsa e il cuore mi saltò in gola. Poi mi venne da ridere quando mi resi conto che era soltanto il gatto. In questa stanza ardeva ancora il fuoco e l'aria era di nuovo impregnata dall'odore di tabacco. Holmes entrò in punta di piedi, mi fece cenno di seguirlo e poi richiuse pian piano la porta. Eravamo nello studio di Milverton e una portiera all'estremità indicava l'ingresso alla sua stanza da letto. La fiamma del caminetto era ancora vivace e rischiarava la stanza. Accanto alla porta vidi il lucichio di un interruttore elettrico, ma non c'era bisogno, amesso che potessimo farlo senza rischio, di accendere la luce. Da un lato del cammino una tenda pesante schermava la finestra che avevamo scorto dall'esterno. Dall'altro lato c'era la porta di comunicazione con la veranda. Al centro della stanza una scrivania con una poltrona girevole di lucido cuoio rosso. Di rimpetto una grande libreria sormontata dal busto marmoreo di Minerva. Nell'angolo, fra la libreria e la parete, c'era una cassaforte molto alta, di color verde, le cui manopole di ottone lucidato riflettevano il bagliore del fuoco sul viso della dea. Holmes si avvicinò a dare un'occhiata, poi in punta di piedi si accostò alla porta della camera da letto e rimase ad ascoltare con l'orecchio teso. Dall'interno non arrivava nessun suono. Nel frattempo avevo pensato che sarebbe stato saggio garantirci una via d'uscita attraverso la porta che dava sull'esterno e quindi la esaminai attentamente. Con mia enorme sorpresa vidi che non era chiusa a chiave e neanche sbarrata. Toccai il braccio del mio amico e mentre girava il volto mascherato da quella parte lo vidi trasalire evidentemente sorpreso quanto mi. Non mi piace, mi bisbigliò l'orecchio. Non mi convince. Comunque non c'è tempo da perdere. Posso fare qualcosa? Sì, resti accanto alla porta. Se sente arrivare qualcuno mette il paletto dall'interno così potremo andarcene come siamo venuti. Se invece arriva qualcuno dall'altra parte possiamo svignarcela da quella porta se abbiamo finito o in caso contrario nasconderci dietro le tende della finestra. È tutto chiaro? Feci cenno di sì con la testa e rimasi accanto alla porta. Il senso di paura era svanito e adesso provavo un brivido di entusiasmo più intenso di quanto avessi mai provato quando difendevamo la legge anziché infrangerla. Il nobile scopo della nostra missione, la consapevolezza che si trattava di un'impresa altruistica e cavalleresca, la spregevole personalità del nostro avversario, tutto aggiungeva sapore alla nostra avventura. Lungi dal sentirmi colpevole mi rallegravo ed esultavo del pericolo che stavamo correndo. Con fervida ammirazione osservavo Holmes che apriva il suo astuccio di strumenti, scegliendo quello più opportuno con la calma e la precisione scientifica di un chirurgo impegnato in un delicato intervento. Sapevo che aprire le cassaforti era un suo hobby particolare e comprendevo quale gioia gli potesse dare l'affrontare quel mostro verde e oro, il drago che teneva nelle fauci la reputazione di tante persone. Rimboccandosi i polsini dello smoking, Holmes allineò i due trapani, un grimaldello e varie chiavi universali. Io stavo in piedi vicino alla porta centrale scrutando le altre, pronto per ogni emergenza, anche se a dire il vero non avevo un'idea chiara di cosa avrei fatto se fossimo stati interrotti. Holmes lavorò con estrema concentrazione per circa una mezz'oretta, appoggiando uno strumento e prendendone un altro, maneggiando ogni cosa con la forza e la delicatezza di un meccanico esperto. Finalmente sentii un clic. Il grosso sportello verde girò sui cardini e scorsi all'interno vari pacchetti di carte, ciascuno legato, segillato e annotato. Holmes ne prese uno, ma era difficile leggere al tremolante chiarore del fuoco e quindi tirò fuori la sua piccola lanterna cieca, dato che, con Milverton nella stanza accanto, sarebbe stato troppo pericoloso accendere la luce. D'improvviso lo vidi fermarsi, ascoltare attentamente e un attimo dopo aveva richiuso lo sportello della cassaforte, afferrato il suo soprabito, infilato i ferri in tasca e saettato dietro la tenda, facendomi cenno di fare altrettanto. Solo dopo che gli fui a fianco sentii quello che aveva messo in allarme il suo udito finissimo. C'era un rumore da qualche parte nella casa. Lontano sbatté una porta, poi un suono soffocato e confuso si trasformò nella cadenza misurata di passi pesanti che si stavano avvicinando rapidamente. Erano nel corridoio fuori dalla stanza, fuori dalla porta. La porta si aprì, con uno scatto secco si accese la luce elettrica. La porta quindi si richiuse e ci arrivò alle narici l'aroma pungente di un sigaro. Poi i passi continuarono avanti indietro, avanti indietro, a pochi metri da noi. Alla fine si sentì lo scricchiolio di una seggiola e i passi si interruppero. Una chiave girò in una serratura e udì un fruscio di carte. Fino a quel momento non avevo osato guardar fuori, ma a quel punto scostai appena appena le due metà della tenda e sbirciai di fuori. Dalla pressione della spalla di Holmes contro la mia capì che stava facendo altrettanto. Proprio di fronte a noi, tanto vicino che quasi avremmo potuto toccarla, c'era l'ampia schiena curva di Milverton. Era evidente che ci eravamo sbagliati, circa i suoi movimenti. Non era mistato nella camera da letto, ma era rimasto in qualche altra stanza, soggiorno, biliardo, nell'ala più distante della casa e di cui non avevamo visto la finestra. Il testone con i capelli brizzolati, dove qua e là brillavano lucide zone di calvizie, ci stava proprio davanti agli occhi. Era semisdraiato nella poltrona di cuoio rosso, a gambe tese, con un lungo sigaro nero all'angolo della bocca. Indossava una giacca da camera di tipo semimilitare, color bordeaux, con il collo di velluto nero. In mano teneva un lungo documento legale che stava leggendo con aria distratta, soffiando in aria anelli di fumo. Quel suo atteggiamento tranquillo e rilassato non induceva certo a sperare che se ne sarebbe andato presto. Sentì la mano di Holmes insinuarsi nella mia con una stretta rassicurante, quasi a farmi capire che la situazione era sotto controllo e che non c'era da preoccuparsi. Non sapevo però se aveva visto quello che, dalla mia posizione, era fin troppo evidente, e cioè che lo sportello della cassaforte non era ben chiuso e Milverton avrebbe potuto accorgersene da un momento all'altro. Dentro di me avevo deciso che, se dalla fessità del suo sguardo avessi capito che se ne era accorto, sarei saltato fuori buttandogli sulla testa il mio soprabito, immobilizzandolo e lasciando che Holmes si occupasse del resto. Ma Milverton non sollevò mai gli occhi. Si interessava senza fretta i documenti che stava leggendo e pagina dopo pagina seguiva la disertazione dell'avvocato. Perlomeno, pensai, quando avrà terminato documento e sigaro se ne andrà in camera sua. Ma prima che arrivasse alla fine di uno dei due, si verificò uno strano evento che indirizzò i nostri pensieri da tutt'altra parte. Avevo notato che Milverton a più riprese guardava l'orologio e una volta si era anche alzato e si era rimesso a sedere con un gesto di impazienza. Ma non mi era venuta in mente l'idea che potesse avere un appuntamento ad un'ora così insolita, almeno fino a quando le mie orecchie non percepirono un leggero rumore dalla veranda esterna. Milverton lasciò cadere le carte rimanendo seduto rigidamente sulla poltrona. Il suono si ripetì, poi si sentì bussare cautamente alla porta. Milverton si alzò e andò ad aprire. «Bene!» osservò seccamente. «Sei in ritardo di quasi mezz'ora!» Dunque era questa la spiegazione della porta non chiusa a chiave e della veglia notturna di Milverton. Si sentì il delicato fruscio di una veste femminile. Avevo chiuso le tende quando Milverton si era voltato dalla nostra direzione, ma adesso mi azzardai cautamente a riaprirle nuovamente. Si era rimesso a sedere con il sigaro che ancora gli pendeva sfrontatamente dall'angolo della bocca e di fronte a lui, in piena luce, stava una donna bruna, alta e sottile, con il viso coperto da una veletta e un mantello chiuso fino al mento. Respirava rapidamente e a fatica e ogni centimetro della sua esile figura tremava d'agitazione. «Beh!» disse Milverton. «Mi hai fatto perdere una buona nottata di sonno, bellezza mia! Spero che ne sia valsa la pena! Non potevi venire in un altro momento, eh?» La donna scosse il capo. «Beh, se non potevi, non potevi! Se la contessa è una padrona severa, adesso hai l'occasione di pareggiare i conti! Ma benedetta ragazza, perché stai tremando? Ecco così, mettiti tranquilla. E adesso veniamo agli affari!» Prese un tacquino dal cassetto della scrivania. «Dici che sei in possesso di cinque lettere compromettenti per la contessa d'Albert. Tu vuoi venderle e io voglio comprarle. Fin qui va tutto bene. Non resta che stabilire il prezzo. Naturalmente dovrò prima esaminare le lettere, se sono veramente autentiche. Santo cielo, lei?» Senza parlare, la donna aveva sollevato la e sbottonato il mantello, scoprendo un viso attraente dai lineamenti incisivi e dalla pelle dorata che fronteggiava Milverton. Un volto dal naso aquilino, volte sopracciglia nere su due occhi duri e lucenti, una bocca dritta dalle labbra sottili incurvate in un sorriso minaccioso. «Proprio così ostinata?» disse. «Perché mi ha spinto a tali estremi? Le assicuro che, per quanto mi riguarda, non farei male a una mosca, ma tutti hanno i loro affari. E che altro potevo fare? Il prezzo era ampiamente nelle sue possibilità. Lei ha rifiutato di pagare». «E così lei ha mandato le lettera a mio marito. E a lui, all'uomo più nobile che mai sia esistito, un uomo cui io non ero nemmeno degna di legare i lacci delle scarpe. A lui si è spezzato il povero cuore ed è morto. Ricorderà l'ultima sera in cui sono passata da quella porta. L'ho scongiurata, l'ho implorata di avere pietà e lei mi ha riso in faccia, come sta cercando di ridere adesso. Solo che il suo cuore vile non riesce a trattenere il tremito delle sue labbra. Già, lei non avrebbe mai creduto di rivedermi qui. Ma fu proprio quella notte a suggerirmi come avrei potuto incontrarmi di nuovo con lei, faccia a faccia e da soli». «Bene, Charles August Milverton, cosa ha da dire?» «Non creda di impressionarmi», rispose alzandosi in piedi. «Non ho che da alzare la voce, chiamare i domestici e farla arrestare. Ma sarò tanto generoso da perdonare questo suo accesso di collera. Esca subito dalla stanza come è entrata e dimenticherò tutto». La donna rimaneva con le braccia incrociate sul petto e lo stesso funesto sorriso sulle labbra sottili. «Non rovinerà più altre vite come ha rovinato la mia. Non tormenterà altri cuori come ha tormentato il mio. Libererò il mondo da un insetto velenoso. Prendi questo sciacallo e questo e questo». Aveva estratto una piccola pistola lucente e l'aveva scaricata colpo dopo colpo nel corpo di Milverton, con la canna a pochi centimetri dal suo petto. L'uomo arretrò barcollando, poi cadde a faccia avanti sul tavolo, tossendo spaventosamente e artigliando le carte. Poi si drizzò vacillante e fu colpito da un altro proiettile, quindi rotolò sul pavimento. «Mi hai ammazzato!» gridò e giacque immobile. La donna lo guardò fissamente e affondò il tacco della scarpa nel volto rivolto verso il soffitto. Lo guardò ancora una volta, ma non ci fu né movimento né rumore. Solo un fruscio. L'aria fresca della notte penetrò nella stanza riscaldata e la Nemesi era scomparsa. Nessun intervento da parte nostra avrebbe potuto salvare l'uomo da quella fine, ma mentre la donna scaricava un proiettile dietro l'altro nel corpo indietreggiante di Milverton, stavo per saltare fuori quando la mano fredda e vigorosa di Holmes mi afferrò il polso. Capii tutto il significato di quella stretta decisa e repressiva. Non era cosa che ci riguardasse, il fatto che la mano della giustizia avesse colpito una canaglia. Non dovevamo perdere di vista il nostro dovere e il nostro scopo. Ma la donna era appena uscita dalla stanza che Holmes, a passi rapidi e silenziosi, era arrivato dall'altra porta, girandone la chiave nella serratura. Nello stesso istante sentimmo delle voci e il suono di passi frettolosi. Le revolverate avevano svegliato tutta la casa. Con la massima freddezza Holmes andò alla cassaforte, fece una bracciata dei pacchetti di lettere e le gettò nel fuoco, e continuò fino a che la cassaforte non fu completamente svuotata. Qualcuno girò la maniglia bussando la porta dall'esterno. Holmes diede una rapida occhiata in giro. La lettera che era stata messaggera di morte per Milverton giaceva sulla scrivania imbrattata di sangue. Holmes gettò nel fuoco anche quella. Poi prese la chiave della porta che dava all'esterno, uscì dopo di me e la richiusa dal di fuori. «Da questa parte, Watson», disse. «Possiamo scalare il muro del giardino in questa direzione». Non avrei mai creduto che un allarme potesse diffondersi così rapidamente. Guardando indietro, vidi che la casa era illuminata a giorno. Il giardino formicolava di gente. Un tale lanciò un richiamo mentre uscivamo dalla veranda e si mise ad inseguirci da vicino. Holmes sembrava orientarsi perfettamente, aprendosi rapidamente un varco fra un boschetto di alberelli, con me al calcagna e il nostro inseguitore alle spalle con il fiato grosso. Il muro che ci sbarrava la strada era alto sei piedi, ma lo scavalcò in un salto passando dall'altra parte. Mentre facevo la stessa cosa sentì la mano dell'uomo che mi afferrava la caviglia, ma me ne liberai con un calcio, inerpicandomi su per il muro ricoperto di muschio. Cadi a bocconi dall'altra parte, frecce spugli, ma Holmes mi rialzò in un istante ed insieme fuggimmo a perdi fiato attraverso la distesa di Amstead Head. Credo che corremmo per cerca un paio di miglia, poi Holmes finalmente si fermò rimanendo in ascolto. Dietro di noi tutto era silenzioso. Ci eravamo liberati degli inseguitori ed eravamo salvi. Il giorno dopo avevamo terminato di fare colazione e stavamo fumando la nostra pipa mattutina quando il signor Lestrade di Scotland Yard, molto solenne e imponente, venne fatto accomodare nel nostro modesto salotto. «Buongiorno, signor Holmes», disse. «Posso chiederle se al momento è molto occupato?» «Ma è troppo per ascoltarla.» «Ho pensato che forse, se non era impegnato in qualcosa di speciale, le avrebbe fatto piacere aiutarci con una stranissima faccenda accaduta non più tardi della notte scorsa ad Amstead.» «Ma davvero?», disse Holmes. «E di che si tratta?» «Un omicidio. Un tragico, inspiegabile omicidio. So quanto queste cose la interessino e lo riterrei un grosso favore personale se volesse venire ad Appledore Towers e favorirci un consiglio. Non è un delitto comune. Tenevamo d'occhio questo signor Milberton già da un certo tempo e detto fra noi era una canaglia. Ci risulta che fosse in possesso di documenti di cui si serviva a scopo di ricatto. Gli assassini hanno bruciato tutti i documenti. Non è stato portato via nessun oggetto di valore ed è probabile che i criminali fossero persone molto perbene, il cui solo obiettivo era di evitare uno scandalo sociale.» «Criminali?», disse Holmes. «Al plurale?» «Sì, erano in due. C'è mancato un soffio che fossero colti in flagrante. Abbiamo le loro impronte e una loro descrizione e scommetto che li troveremo. Il primo di loro era molto svelto, ma il secondo è stato raggiunto dall'aiuto giardiniere e si è liberato solo dopo una colluttazione. Un uomo di media statura, robusto, mascella squadrata, collo grosso, baffi, con una maschera sul viso.» «È piuttosto vago», disse Holmes. «Perbacco, potrebbe essere una descrizione di Watson.» «Ha ragione», rispose divertito l'ispettore. «Potrebbe corrispondere al dottor Watson.» «Beh, temo di non poterla aiutare, Lestrade», replicò Holmes. «Il fatto è che conoscevo questo Milverton. Lo consideravo uno degli individui più pericolosi di Londra e credo che esistano crimini che sfuggono alla legge e che quindi, fino ad un certo punto, giustificano la vendetta privata.» «No, inutile discutere, ho deciso. Le mie simpatie vanno al criminale più che alla vittima e non intendo occuparmi di questo caso.» Holmes non mi aveva detto una parola circa la tragedia alla quale avevamo assistito, ma notai che rimase pensieroso per tutta la mattinata e dallo sguardo assente e l'aria distratta mi diede l'impressione di un uomo che cerca di ricordare qualcosa. Eravamo nel bel mezzo del pranzo, quando improvvisamente balzò in piedi. «Per giove, Watson, ci sono!» gridò. «Prenda il cappello e venga con me!» Percorse velocemente Baker Street e Oxford Street fino quasi a Regent Circus. Qui a sinistra c'era una vetrina piena di fotografie delle celebrità e delle bellezze del momento. Holmes fissò lo sguardo su una di esse e, seguendo i suoi occhi, vedi il ritratto di una regale e statuaria signora, in abito di corte, con un'alta tiara di diamanti sul capo. Osservai quel naso delicatamente arcuato, le sobracciglia marcate, la bocca diritta e il piccolo mento deciso. Poi sussultai, leggendo l'antico e onorevole nome del gran nome l'uomo e statista di cui era moglie. Il mio sguardo incontrò quello di Holmes, che pose un dito sulle sue labbra mentre ci allontanavamo dalla vetrina.